Tra sabato e domenica la struttura sportiva destinata al tiro a volo di Cologno al Serio, cioè gli Aperti, ha ospitato il campionato nazionale per disabili. Una trentina gli atleti provenienti da tutta Italia con le più disparate tipologie di disabilità fisiche. Si sono contesi il titolo di campione italiano di una disciplina che tra qualche mese potrebbe essere riconosciuta anche come parolimpica dall'apposito comitato. Uno solo il bergamasco sul podio, Omar Radelli di Clusone ha infatti ottenuto la medaglia di bronzo al double trap e quella d'argento alla fassa olimpica. Una sorpresa per l'atleta che si allena da soli tre mesi. Sicuramente, dato il tempo che sparo, è una grande emozione, una grande cosa. Sicuramente è fatto di più che i miei avversari, oltre ad essere più tempo praticano questo tipo di sport, hanno sicuramente più esperienza. Questo sta a voler dire che le cose, quando si vogliono fare, qualcosa si attiene sempre. Omar ha dovuto interrompere la pratica del tennis, disciplina che l'aveva comunque portato a gareggiare a livello nazionale a causa di un problema muscolare al braccio. Il tiro a volo sarà dunque solo una parentesi o praticherà entrambi gli sport. Sicuramente il tennis non è una cosa che abbandono, perché è più uno sport fisico che pratico. Questo fermarmi da giocare col tennis per un problema fisico, una piccola cupica, un dilitto e un braccio, mi ha portato a provare a sparare, grazie a un amico che mi ha chiesto se volevo provare. Io ho detto, vabbè, proviamo e a quanto pare durante questi pochi mesi ho avuto modo di capire che può essere un altro sport in carrozzina. Purtroppo pochi giornalisti ed il pubblico presenti al campo di tiro nel fine settimana. Quali sono dunque i passi che si stanno muovendo per far aumentare la visibilità nei confronti della disciplina? Allora, come in tutti gli sport dove ci sono i disabili, purtroppo c'è poca attenzione e poco riguardo. Speriamo durante questa manifestazione c'è stato modo con la federazione e la FITA di avere delle agevolazioni anche per i materiali e per le cose. Sicuramente questa è una cosa importante, visto anche i costi in termini economici di tutti gli sport, che sia il tennis, che sia il tiro a volo. Per cui speriamo che, col fatto che sia una cosa nuova e che abbia questa interesse da parte di federazioni e di aziende che producono i materiali, speriamo che diventi sempre molto più facile praticare lo sport.